Un aspetto fondamentale per il Codice dei beni culturali è sicuramente quello della tutela dei beni. Possiamo quindi adesso analizzare in maniera più precisa i contenuti dei provvedimenti amministrativi che hanno proprio lo scopo di individuare e poi di dichiarare di interesse culturale un bene che appartiene alle categorie presenti all'interno dell'articolo 10 del Codice. Si tratta di un provvedimento che rientra tra i provvedimenti limitativi dei diritti. Questo perché? Perché ovviamente, come dice il nome stesso, i provvedimenti limitativi dei diritti tolgono alcune libertà al proprietario, possessore e detentore del bene. Quindi tutte le facoltà che solitamente spettano a tutti i proprietari privati di beni, quindi la possibilità, ad esempio, di portare questo bene fuori dall'Italia o ancora di modificarlo nel caso in cui serva a restaurarlo sono tutte cose che nel caso dei beni culturali possono avvenire ma come previa autorizzazione da parte del sovrintendente, del ministero o comunque dell'organo competente. Proprio di questi effetti limitativi, che quindi limitano i comportamenti del soggetto proprietario, possessore o detentore di un bene, si possono indicare quelle che sono le linee generali del regime di tutela dei beni. Si possono individuare delle limitazioni consistenti nell'imposizione di obblighi, ad esempio l'impossibilità di utilizzare il bene per degli scopi che collidono con la natura in sé del bene stesso. In questo caso si parla di obblighi di utilizzazione. O ancora bisogna denunciare tutti quegli atti di trasferimento di un bene da un proprietario all'altro. Poi abbiamo le limitazioni che consistono nell'ottenimento di uno specifico permesso da parte dell'autorità competente. Ad esempio nel caso